Sony PlayStation è presente al Lucca Comics & Games 2018 con un grandissimo stand in piazza Colonna Mozza. Forte ormai di una posizione dominante sul mercato console, ha puntato tutto su quella che è la sua esclusiva di punta per questa seconda metà del 2018, ovvero Marvel Spider-Man. All'interno dello stand i fan dell'arrampica muri potranno provare su tantissime postazioni il brivido di lanciarsi tra i grattacieli di Manhattan nei panni di Spidey con l'acclamato titolo firmato Insomniac Games. Ma non è tutto, all'interno dello stand infatti si concluderà la caccia al tesoro a tema PlayStation, attiva nella città toscana per i giorni della fiera tramite l'app per smartphone Experience PlayStation. Chi troverà i sette tesori disseminati per la città di Lucca, ovvero sette QR code da scansionare con lo smartphone, potrà infine recarsi allo stand dove sarà premiato con un'esclusiva copia del fumetto Amazing Spider-Man, con la cover realizzata per Lucca, disegnata e autografata da Jacopo Camagni.